Alfa approfitta per far rinverdire la passione sportiva di tutti i suoi fans perché presenta Una super sportiva di razza, due posti secchi a trazione posteriore che monta un motore 1750 a benzina turbo Si tratta di una vettura estremamente affascinante che ha il suo segreto soprattutto nel peso ridotto 850 kg circa, anche qualche cosa di meno e ha un telaio con vasca di carbonio E' ottimo tra l'altro il rapporto tra peso potenza, un peso che viene distribuito al 40% all'anteriore e al 60% al posteriore Per quanto riguarda le sospensioni anteriori sono a quadrilatero alto Si tratta di un concept ma già fa parlare di sé anche per quanto riguarda le prestazioni Che si attestano per quello che dice la casa ad un valore per quanto riguarda la velocità massima Superiore ai 250 km orari e il motore eroga più di 200 CV Poi vedremo se riuscirà anche ad arrivare in strada Grazie 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 a tutti.